Il fatto di poter replicare questa nostra esperienza della 35esima edizione di Ramma, che replicarla in Sicilia, dove siamo già attivi da vent'anni, una collaborazione molto virtuosa con il Parco archeologico di Agrigento, questo fatto per noi è una gran soddisfazione. Un carico notevole per lo staff organizzativo, perché è anche per i creativi, perché tutto avviene in sostanza durante il Ram, che diventa anche un'occasione per contattare tutti gli operatori, i vari titoli, i giornalisti, i registi, i opinionisti, i esperti, insomma contattarli e chiedere la disponibilità per una cosa che avviene tra una manciata di settimane, quindi insomma è a tempi molto stretti. Il tutto è uno dei tanti lasciti, diciamo così, di Paolo Orsi, perché non so se tutti sanno che Paolo Orsi era overetano, ma che ha dedicato 40 anni della sua vita agli scavi archeologici in Sicilia, in Calabria. Per lui è riuscito a creare un ponte, nella sua memoria facciamo tutto questo.